La Virtus Francavilla per dare continuità e il Monopoli per rilanciarsi. Un derby che vale già tantissimo al Veneziani, quello in programma domenica pomeriggio. Il DS Biancoverde Pelliccioni ha messo l'intera rosa sotto la lente di ingrandimento. Pancaro aspetta risposte dal suo 3-5-2. Possibili novità sono attese in attacco. Montini e Sarita scalpitano e non è da escludere la loro presenza in campo dal primo minuto al posto di Felle e Simeri. L'emergenza difensiva invece dovrebbe essere colmata dall'adattamento di Pinto nel terzetto con Fornasiera e Drudi mentre Falbo agirà a tutta fascia sulla sinistra. In mezzo invece ballottaggio Rolando Bussaglia per affiancare Derisio e Vassallo. Calabro invece per la sua Virtus Francavilla dovrebbe optare ancora per il 4-3-2-1. Sulla tre quarti, accanto al confermatissimo Cisco, tornerà Maiorino che contro il Taranto ha scontato un turno di squalifica. Patierno invece sarà l'unica punta, Perez resta in dubbio. Per il resto non ci saranno grosse novità con Risolo che sarà ancora preferito all'ex di turno giorno in cabina di regia tra Di Marco e Mastropietro e Solcia con Caporale adattati nuovamente nel ruolo di Terzini.